Obiettivo Sport, nuova puntata del martedì, come sempre dedicata alla palla a volo con il nostro approfondimento sul campionato di serie B2 maschile e sul campionato di serie D femminile. Iniziamo dalla B2, sabato al Palazzetto dello Sport, l'Enel Asp è uscita sconfitta al tie break contro il Monteporzio, una partita sicuramente giocata bene dalla formazione di Fabio Cristini, sotto di un set è riuscita a recuperare la partita nel secondo e terzo set, nel quarto la formazione del rosso-blu ha avuto la possibilità di chiudere il match ma qualche errore di troppo e almeno tre o quattro decisioni da rivedere della coppia arbitrale hanno di fatto riportato in partita la formazione Castellana, che ha fatto suo il quarto set e si è giudicato anche il quinto ed ultimo set, quindi vincendo al tie break la sfida del Palazzetto Sport. Tante buone indicazioni per la squadra di Fabio Cristini, però rimane il rammarico di aver accettato al vento una vittoria, magari per il 3-1 che avrebbe permesso alla squadra Civita Vecchiese di avere una classifica decisamente migliore. Vediamo questa classifica con il girone F del campionato nazionale di serie B2 maschile, che vede in testa proprio il Monteporzio Sharks con 8 punti, a 7 punti c'è la meridiana Olpia, a 6 punti per un trittico di squadre il Sabaudia, la Fenice Roma e l'Aeronautica Militare, il Club Italia, squadra con cui l'ASP è uscita sconfitta 15 giorni fa, con 5 punti c'è l'Oristano e la Station Service Roma e il Marino Ballavolo, 4 punti per l'Enel Civita Vecchia, la Torza per Roma e il Volley Team Pomezia, 2 punti per la Virtus Roma, 1 punto per il Sassari, 0 punti per il Volley Iglesias. Ricordiamolo che le prime nuove squadre classificate al termine del campionato rimangono nella categoria nazionale, dalla decima alla quattordicesima invece tornano nella serie C regionale per l'ormai nota riforma dei campionati di pallavolo. Enel-Civitecchi con 4 punti ma in virtù della differenza 7, se il campionato fosse terminato sabato ma siamo ovviamente alle battute iniziali, solo la terza giornata sarebbe salva proprio per la differenza 7 rispetto alla Torza per Roma e al Pomezia. Partita che ha lasciato ovviamente come immaginabile tanto rammarico anche perché la squadra civitecchiese ha giocato ad armi pari contro la capolista e soprattutto squadra il Monteporzio che viene considerata dagli addetti ai lavori come possibile sorpresa in questo campionato e ovviamente con una vittoria per 3 a 1 i civitecchiesi avrebbero in classifica 2 punti in più, quindi starebbero a 6 punti in una zona di classifica decisamente migliore, anche se poi dalla posizione occupata adesso dall'ASP alla prima in classifica vi sono solo 4 punti. Però sabato i rosso-blu sono chiamati ad una prova di carattere sul campo della Virtus Roma, squadra che ha solo due punti in classifica e che è sicuramente tra le contendenti a rimanere nella categoria nazionale. Quindi una diretta concorrente servirà una prova di carattere, servirà quella palla a volo vista nel secondo e terzo set per buona parte anche del quarto per portare a casa un successo importante guardando anche ovviamente al con 7-7 tenendo a debita distanza la Virtus Roma. Guardando un po' al girone, un girone che almeno fino a questo momento sembra piuttosto equilibrato, a 0 punti c'è solo una formazione che è il Volley Iglesias, a un punto il Sassari che sembrano un po' le due sarde messe più male rispetto ad esempio alla Meridiana Olbia e all'Ariete Volley Oristano, ma Meridiana Olbia che viene considerata anche questa dagli addetti ai lavori come una delle possibili pretendenti al salto di categoria. Quindi sabato questa sfida importante sul campo della Virtus Roma serve una vittoria per riprendere il cammino, dimenticare la sconfitta al tie-break di sabato al Pallasport e guardare con maggiore serenità al proseguo del campionato. Scendiamo in Serie D femminile dove l'inizio di stagione per la Margutta Asp e il Civite Vecchia Volley non poteva che essere dei migliori, iniziamo dalla Margutta, prima punteggio pieno insieme alla Volley Viterbo, la Sigler Viterbo, Margutta che per un set perso, se andiamo a leggere attettamente la classifica, però risulta seconda proprio per la peggiore differenza di set vinti. 9 quelli vinti da Viterbo e 0 quelli persi, mentre sono 9 quelli della Margutta e uno solo perso sabato sul campo del Marconi Stella. Tra le due prime in classifica era proprio la formazione di Taranta ad avere la partita, almeno sulla carta più difficile, contro il Marconi Stella, squadra notoriamente allestita per disputare un campionato di vertice e solo nel primo set le Romane hanno fatto un po' penare le Rosso-Blu, poi dopo la maggiore esperienza delle Civite Vecchiesi e qualche aggiustamento tattico in campo hanno cambiato la partita con la squadra di Taranta che non ha trovato grossissimi problemi nel portare a casa i tre punti. Bene anche il Civite Vecchia Volley che spugna per 3-0 il campo del Volley Orte, una partita equilibrata anche qui solo nel primo set l'ha spuntata la formazione di Pignatelli ai vantaggi, 26-24 il primo parziale poi dopo il secondo set l'Orte è un po' calata riuscendo fuori nel terzo e ultimo set ma non ha creato grossissimi problemi alle Rosso-Nere. Andiamo a vedere la classifica con il Volley Viterbo e la Marcutta Aspa e Civitecchia che guidano il girone con 9 punti, ad 8 punti c'è il Dream Team Roma e il Civite Vecchia Volley, 6 punti per il Fiano Romano, 5 punti per il Borzena Volley, 4 punti per il Marconi Stella, poi 3 punti per Roma Centro, Scarabeo Junior, Civite la Castellana, Sporting, Pallavolo Orte per il Fri Sport Roma, chiudono con un punto il Barani Group Roma, poi c'è la Virtus Roma con un punto e chiude con 0 punti il Volley Formello, Volley Formello che nella passata stagione come tutti ricorderanno vinse il campionato anche abbastanza agevolmente il proprio girone ai danni della Marcutta Aspa, poi in estate ha rinunciato al passaggio in Serie C ripartendo appunto dal campionato di Serie D femminile. Andiamo a vedere gli incontri della prossima domenica, entrambe le formazioni, la Margutta e il Civite Vecchia Volley scenderanno in campo davanti ai propri pegnamini, la Margutta ospita appunto il Volley Formello, fanalino di coda alle 19 come sempre sul Taraflex della Corsini, la rosa per il Civite Vecchia Volley alle 18.30 alla palestra del Marconi, invece l'ostacolo si chiama Bolzena Volley, squadra che rappresenta una novità per il Volley Nostrano, è stata inserita infatti in questo girone un po' sorpresa, squadra tutta da scoprire con le rossoniere che però vogliono continuare il momento positivo e restare nella zona alta della classifica che, ricordiamolo, vale l'accesso ai playoff. Anche per quest'oggi Obiettivo Sport si chiude qui, vi ricordo il nostro sito internet www.0766news.it con aggiornamenti, commenti e curiosità sul mondo sportivo Civite Vecchiesi e del comprensorio. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento è alla prossima puntata. Civite Vecchiesi e del comprensorio. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento è alla prossima puntata.